Allora, ciao, sono Barbara, sono una consulente, non mi vedo, e questo è terrificante perché a me piace guardarmi, quindi adesso trovo una visualizzazione, ecco, mi vedo là in un angolo. Allora, diciamo che questo talk è assolutamente contemporaneo, nasce da quello che è successo il 2 giugno scorso, Blackout Tuesday, forse qualcuno di voi l'ha seguito. In buona sostanza l'industria della musica si è mobilitata in supporto del Black Lives Matter movement e in reazione alle brutalità della polizia negli Stati Uniti, invitando tutti i partecipanti alla comunità dell'industria musicale, ma non solo, a rimuovere qualsiasi contenuto che generasse profitto dalla loro presenza online. In realtà cosa è successo? Che per molti questo si è tradotto in pubblicare un quadrato nero su Instagram e per tantissimi questo ha significato dire pubblicare in automatico un quadrato nero su Instagram, magari taggando lo stesso movimento Black Lives Matters. La conseguenza è stata che il muro di Instagram, di Black Lives Matters, che è uno strumento di comunicazione, è improvvisamente diventato nero. Ora, perché questa è una questione di personal branding? Perché reagire nel modo corretto a situazioni di questo tipo possono lasciare un'impronta molto pesante sulla nostra reputazione e quindi oggi io vi do 5 piccoli consigli per, se l'avete fatto, non ripubblicare così al buio una mattonella nera. Il primo consiglio, eh? E basta. E qui finisce il talk. Fermati e pensa. No, a parte gli scherzi, la cosa fondamentale è evitare reazioni pavloviane o la paura di rimanere esclusi dalla conversazione, quindi la FOMO di cui parlava prima che cominciassimo, e di sentirvi in dovere di reagire in un qualche modo istintivamente senza pensare. Dovete fare l'esatto opposto. Dovete chiedervi innanzitutto cosa c'è dietro questa iniziativa, qual è il suo significato, in che modo si allinea con i vostri valori e in quale azione si allinea con i vostri valori. Solo a quel punto lo mettete in agenda. Non è sufficiente un post. Anzi, molto spesso un post da solo è lanciato nel vuoto, sostanzialmente ha l'effetto assolutamente contrario, perché dà il senso di un vostro coinvolgimento superficiale nell'iniziativa. In realtà, metterlo in agenda significa non solo mettere l'azione che avete deciso di intraprendere all'interno della vostra pianificazione complessiva, ma anche cominciare a pianificare come vi comporterete in futuro di conseguenza. Il terzo consiglio, ragazzi, questo è il più difficile. Non parlate di voi. Non ha senso occupare spazio online raccontando quanto siete tristi, quanto siete incazzati, quanto fate in privato, quanti amici di colore avete, quanti amici è il Pride Month, quanti amici gay, lesbiche, trans, come siete bravi voi. Quindi non è il momento di parlare di voi quando si sta parlando di un movimento che non vi riguarda in prima persona. Forse non è la frase giusta, perché in realtà tutto ciò che succede nel mondo ci riguarda o ci dovrebbe parlare, scusate, almeno in parte in prima persona. Però il concetto fondamentale è che nel momento in cui voi aderite a un movimento di altri, dovete farlo trovando il modo di fare un passo indietro voi personalmente per dare spazio e voce al movimento. A meno che non si parli di voi e qui faccio riferimento a altri movimenti come il Me Too Movement. Se siete stati vittime voi stessi di violenza o di situazioni di harassment anche, non necessariamente di uno stupro, è giusto raccontare quello che vi è successo, perché il vostro racconto aiuta altre persone a sentirsi coinvolte nell'iniziativa e nella lotta. Ed è probabilmente quello che potrebbe spingerle a mettersi in azione. E l'ultima cosa. Fatti, non pugnete. Alla fine della fiera voi potete avere detto che siete assolutamente in supporto del Black Lives Matter Movement, che assolutamente volete stare zitti, riconoscere il vostro white privilege e cominciare a lavorare sulla vostra posizione. Ma se il giorno dopo avere pubblicato la famosa Black Tile, cioè il famoso quadrato nero su Instagram, ripubblicate il vostro contenuto, magari sponsorizzato, magari sponsorizzato da un brand del quale non avete verificato la reale, situazione o il reale approccio al movimento, mandate in fumo qualsiasi presa di posizione vocale abbiate preso. Bisogna assolutamente agire.